... Mister, oggi per il Brescia un inizio difficile, poi il gol ha svegliato un po' tutte e questa vittoria è meritatissima direi. Sì, è stata una partita che si è messa subito in salita, un po' per meriti loro perché giocavano 10 dietro la linea della palla, un po' per demerito nostro perché non siamo entrate subito concentrate come di solito facciamo, però dopo penso che con qualche piccolo accorgimento tattico abbiamo messo il centrocampo con tre a triangolo, quindi col vertice basso Gozzi, poi è salita un po' di tono in mezzo al campo Gozzi ai suoi livelli standard, poi un'immensa Sabatino, Boni spostata larga, ha messo in difficoltà, ha creato tanto, quindi penso che sia stata la vittoria comunque di tutta la squadra perché ha giocato molto bene anche D'Alessio quando è entrata, anche al Borghetti era partita in sordina, poi insomma un applauso a tutte, veramente ce l'abbiamo messo a tutto per portare a casa questi tre punti contro una squadra che per noi è sempre stata ostica. I risultati dagli altri campi immagino che li conosci, la Torres ha battuto il Tavagnacco, adesso la distanza dal secondo posto è di un solo punto? Sì, diciamo che ho detto alle ragazze che l'unica paura mia che era oggi, che parecchie di loro magari erano con la testa su un altro campo e forse questo è un pochino inciso, però penso che noi non dobbiamo pensare a quello che fa il Tavagnacco, avevamo quattro partite, volevamo fare 12 punti, vogliamo arrivare a 62 punti, quindi ce la mettiamo tutta, stiamo lavorando, stiamo sudando, stiamo lottando tutti insieme da grande gruppo, con alle spalle veramente una grande società, quindi speriamo che talvolta i sogni siano di facile realizzazione. Sì, abbiamo iniziato molto bene, abbiamo fatto un primo tempo veramente con carattere, e il secondo tempo siamo calati, il Brescia è una gran squadra a mio parere, quindi abbiamo, peccato purtroppo, siamo riusciti a tenerli finché abbiamo potuto. Martina, adesso per te ci sarà l'impegno degli Europei Andre 19, come vi sentite come gruppo e come squadra? Siamo molto convinte, Elisa, mia compagna, io e lei siamo il capitano e il vicecapitano, cercheremo di trasmettere la nostra forza, la nostra grinta, è un'esperienza che capita poche volte nella vita, cercheremo di sfruttarla al meglio. Sì, bisogna fare i complimenti al Brescia, che ormai punta agli altri progetti, quindi è giusto che si giochi le partite tutte le domeniche. Diciamo che noi fino all'ultimo ci giochiamo le nostre gare, quindi che si chiami Brescia, Torres, Lazio o Orlandia, per noi uguale. Siamo scesi in campo veramente concentrati, attenti, abbiamo fatto un ottimo lavoro in settimana, hanno dimostrato di essere finalmente una squadra matura, di saper affrontare le grandi squadre in maniera giusta, sapendo quello che devono fare in mezzo al campo. Peccato per le assenze, non scordiamoci che ci mancava Sodini, ci mancava Carissimi, mancava San Pietro, mancava Franco, mancava Lettieri. C'è rato, quindi sono assenze importanti, però con questo sono contento di aver visto l'opera delle ragazze della primavera, che sicuramente cresceranno e faranno bene per il proseguo delle prossime stagioni, per il Torino calcio femminile e magari chissà anche per qualche nazionale. Dani, oggi una tripletta, sei arrivata a 24 reti, hai portato a casa il pallone del match. Sì, però l'importante è che abbiamo vinto, siamo ancora terze, speriamo e vediamo alla fine in che posizione arriviamo. Adesso la distanza dal Tavagnacco secondo in classifica è di un solo punto, continuate a sognare. Sì, noi cerchiamo di vincere le ultime due partite, però sappiamo che è difficile che arriviamo a seconde, però proviamoci.